benvenuti a mortegliano la città che ospita che l'onore di ospitare la seconda tappa del tour della festa delle castagne 2018 il taglio ufficiale per inaugurare quindi la seconda tappa della festa delle castagne 2018 da mortelliano è aperta ufficialmente la festa delle castagne di mortelliano 2018 e ora il prindisi grazie siamo qui a mortelliano medio friuli dove c'è il campanile più alto d'italia per una festa comunque che vuole che vuole assolutamente sottolineare l'importanza della tradizione della cultura e del folk che anche mortelliano ci tiene tantissimo certamente proprio questa è una zona di scambi e stiamo parlando di castagna e la castagna è sempre stato un prodotto consumato qui a mortelliano e proprio scambiato in questa piazza per dire qua venivano appunto gli agricoltori dalle colline portavano questo prodotto e lo scambiavano con la nostra blave di morte angla buine blave e quindi in questa piazza che attira sempre oltre che le persone di mortelliano anche quelli dei paesi circostanti un po di tutta la provincia di udine sono fiducioso che per l'appunto richiamerà in un clima di festa dove le famiglie potranno trascorrere pomeriggi e serate in allegria in serenità ritrovandosi a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori